I materiali compositi dati i loro costi alti e complessità sono sempre stati a pannaggio dei grandissimi produttori aerospaziali di velivoli commerciali Airbus e Boeing. L'obiettivo del progetto Tabasco, tecnologie e processi di produzione a basso costo per strutture in composito per velivoli avanzati, è stato quello di ripensare tecnologie e processi di produzione per renderli disponibili anche ai produttori aeronautici dell'aviazione generale. Una nuova conquista della tecnologia e della ricerca applicata made in Campania, realizzata attraverso i progetti di sviluppo attivati dal distretto aerospaziale della Campania, ovvero il DAC, in collaborazione con Tecnam, tra i primi tre produttori al mondo nella categoria aviazione generale, uno dei pochissimi produttori certificati ad usare sia il metallo che il composito. Il progetto del valore di 6 milioni di euro è stato cofinanziato dalla regione Campania. La compagina di ricerca che è sviluppata è tutta costituita dai soci del DAC presieduto da Luigi Carrino. Gli obiettivi del progetto nelle parole di Michelangelo Giuliani di Tecnam. Il progetto ha come obiettivo quello di realizzare elementi strutturali primari, quindi parliamo in particolare di fusoliere, in monoscocca, che vengono realizzati in materiale composito preimpregnato, fibra di carbonio e resina epossidica, dando forme aerodinamiche più vicine a quelle che sono in desiderata del progettista, quindi anche più belle se vogliamo dal punto di vista estetico. Quindi la tecnologia oggi è un bagaglio intangibile che permette alla Tecnam di arricchirlo in funzione delle nuove sfide, dei nuovi velivoli che verranno lanciati. Anche sul P2012 Traveler alcuni componenti sono realizzati con la stessa tecnologia. Proprio con l'impiego di questi materiali è nata la prima macchina P2010, un velivolo di quattro posti monomotore certificato, come conferma Claudio Votto, del DAC. Il progetto Tabasco si colloca all'interno delle iniziative che il distretto mette in essere per venire incontro in sostanza a quelle che sono le esigenze dei propri soci, soprattutto industriali e soprattutto piccole e medie aziende. Il distretto complessivamente vuole realizzare delle sinergie che permettono una crescita omogenea, complessiva dell'intero settore, in modo da poter essere maggiormente competitivo sul mercato globale.